Ciao ragazzi, prima di iniziare volevo scusarmi per la luce della facecam e volevo invitarvi a mettere un bel pollice in su perché signori miei questo video mi ha richiesto davvero tantissimo editing e quindi mi farebbe davvero piacere anche un bel mi piace per lo sforzo mi raccomando passate anche dal canale della persona con cui ho collaborato per questo video e nulla, godetevelo Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video molto particolare in compagnia di un ospite molto speciale Galaxy 54, bella E nulla signori miei, oggi che cosa andremo a fare? Andremo a fare una particolare challenge nella quale dovremo indovinare le team dei percorsi o delle città insomma dei giochi Pokémon Le canzoni saranno 10 a testa, 1 punto per chi indovinerà la regione e 2 punti per chi indovinerà anche il percorso e vi ricordo che dopo aver visto questo video dovete passare dal canale di Galaxy perché anche sul suo canale è uscito un video con la medesima challenge e vedremo chi avrà la meglio detto ciò iniziamo subitissimo si comincia e questa è bastardissima no, non è vero, è facilissima urcugiuda allora unima un punto esatto percorso 1 no, percorso 2 ma no vai vada vai allora innanzitutto ma questo è quello di surf e di che regione? yoto no non ci credo la presa così di cattiveria passa in vantaggio signori miei e qual'era? e la sinno no, era giusto ah, era yoto? surf di yoto, sì ok, no, avevo capito, fail surf di yoto, preso tanto sta parte la taglio ok, questa è secondo me non lo indovini perché è un percorso cioè, non dico che sia così tanto utile, però vabbè urcugiuda aspetta tosta è abbastanza unima yoto no ok pronto? vai questa è bastardissima questa non è facile e mi ricordo di averla ascoltata di recente questa è una cosa bella so che non mi ricordo allora innanzitutto regione la butto la, proprio la sparo vai kalos ohen bello è la, come si chiama in Italia? porto sencevoli siamo 3 a 2 giusto? no non è vero siamo 2 a 1 tu da uno quindi allora come cazzo si chiama questa? aspetta che ne devo cercare una decente questa può essere facile come può essere difficile ecco allora la regione è kalos sicuro al 100% e invece no no è kalos è unima ma no oddio è vero è il percorso 10 di unima è il percorso 10 di unima ok questa questa deve è tecnicamente tosta vado eh vai antico chateau monte e luna bello facciamo schifo sono proprio pessimi ce la dico questo è facile ti regalo 2 punti è il percorso 1 di canto no è il percorso 4 è vero il percorso 1 è taratatata taratatata taratata porca dai c'è di vicino dai canto l'ho presa però aspetta un punto ah si giusto giusto dai 2 a 2 si va si va a comandare questa è non lo so dipende vado vado ok non so perché è così bassa è infatti senti senti spero che ci abbia capito qualcosa è impazzito il coso senti falsissimo allora comunque innanzitutto no la so la so lega pokemon calo no la presa un'altra di no no lo dico cosa sto dicendo si comincia ok celestial tower unima torre cielo no torre dragospira è la stessa è la stessa team cerca ok è la identica no lo sapevo questa è questa è carina vado vado questo è il percorso dove c'è ipno questa è la stanza di n unima proprio uguale sì infatti presa in pieno questo è il percorso di ipno canto è la stanza di n unima qualche generazione più la proprio un paio giusto 10-15 anni all'incirca ok vado vai questa è facilissima se la sbagli devi chiudere il canale non puoi sbagliarlo azzanipoli violapoli ma porca troia era di fianco ok vai con questa cioè questa qua ti metto sul piatto d'argento proprio l'esistenza pronto allora sbaglio dai è facile questa è bastardissima è facilissima non ve lo dire provoca la regione che c'era sbaglio e quindi finita sì no e o in il laboratorio di birch ok bella un po' come quella di prima che è proprio easy vai vai cazzo è un treno qui si carica stop urkugula sei con dubbio super 4 di kalos no xernias e ivental lol ma no vabbè kalos l'ho presa la regione sulle regioni ci siamo sono i percorsi che peccano un pochino infatti la regione la prendi sempre la regione ce l'abbiamo poi il resto fa schifo vado squirtle silenzio sì questa era la canzone ma questo no vabbè questo è troppo bastardissima no è illegale su sei regioni posso indovinarla cioè è una probabile quindi direi sinno sinno l'hai presa sinno di alga no è ghiratina è il mondo distorto cazzo però però no infatti c'eri 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 tentato di darti questo punto e mezzo però volevi allora questa è facile solo che è un po' difficile ricordarsi il percorso ok osti cazzi fine e percorso 201 sinno esatto sì ma che era easy però dai eh lo so però ero in dubbio perché era proprio easy ok oh questa qua è semplicissima ti scongiuro ti scongiuro se aspetta se non sbaglio chiudo il canale ok oh perfetto questo era il pre giustissimo eh dai Borgo Fogliano eh ok niente mi era caduto il microfono ottimo me lo tagli sì 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 sicuro allora questa è facile non può essere anche difficile ok mi dipendi da se no che cazzo è cos'è ma il casino no e che cos'è è il commenting di pokemon soul save e dirt gold e non l'avrei presa neanche per sbaglio è che si è posta beh non posso non ho neanche azzeccato la regione perché è casino c'è ovunque però vabbè è ovunque il casino dovevi specificare vabbè perfetto vai pronto allora sono indeciso su quale metterti mi vendrei di arroganza con questa va sardissimo però sono la regione vai la regione è calos è oen grande così perfetto grande vai forestopoli perché è il fiore all'occhiello di oen ok questo è il momento vini sicuro forse le indovini ma chi lo sa eh merda allora ti dico subito Kalos il percorso non ci provo neanche perché non so il numero esatto non lo so non ne ho idea sul serio lo sparo lo sparo che forse lo indovini 17 19 20 ma no che vita di merda ma no che vita di merda sono molto indeciso su quale farti ascoltare mettendo una difficile e quindi vado con questa antico chateau porca troia la presa boom 9 no e quei muo basta fine no basta fine fine no ma andiamo con una bonus in questo caso pareggio un pareggio meritato è fine ma no dai cercherò una bonus no non ne ho altre accontentati il pareggio ok signori miei quindi la challenge termina qui un pareggio abbastanza direi onesto diciamo ci può stare onesto esattamente e nulla il video finisce appunto qui non ci sarà nessuna penitenza perché siamo stati tutti e due bravissimi e quindi che penitenza devi fare però signori miei mi raccomando passate dal canale di galaxy perché anche lì ci sarà una sfida come questa che però è finita in modo molto diverso e quindi mi raccomando accorrete i numerosi eeeh quindi se il video vi è piaciuto mi invito a lasciare un mi piace a commentare e a iscrivervi ad entrambi i canali se non l'avete ancora fatto mi raccomando passate ai social in descrizione e dai vari gruppi telegram e noi ci becchiamo in un prossimo video bye bye